Si è appena conclusa la tredicesima giornata tecnica della vita e del vino, dove sono stati affrontati degli argomenti che hanno contraddistinta l'annata viticola ed enologica del 2020. In primis sono stati visti i dati climatici e fitosanitari dell'annata. I momenti critici sono stati essenzialmente due. Uno nel mese di giugno, nelle prime due decadi, dove le continue piogge e bagnature hanno determinato una forte inoculo per un'ospra della vite che ha messo a dura prova nella gestione di questo fungo i viticoltori. Il secondo momento critico è stato in prossimità della vendemmia, a causa delle continue piogge e abbondanti piogge che si sono verificate nell'ultimo fine settimana di agosto, che hanno determinato una rapida crescita del problema della sanità delle uve in prossimità della vendemmia. Le cantine e i tecnici hanno dovuto accelerare la vendemmia per sostanzialmente portare in cantina un prodotto ancora sano. Dal punto di vista enologico i vini che si sono ottenuti nonostante questa accelerazione della vendemmia sono molto buoni e anche l'evoluzione che si prevede che si avrà nei prossimi mesi o anni sarà positiva. Altri argomenti affrontati in questa giornata tecnica riguardano la gestione dell'inerbimento e la gestione del sovescio, pratica molto importante che apporta sostanza organica al terreno e ne facilita quella che è tutta la struttura e la sua vita all'interno del terreno stesso. Altro argomento affrontato è quello delle varietà resistenti dove sono state presentate le prime quattro varietà resistenti alle principali malattie fitosanitarie, soprattutto fungine, pronospiroidio, che sono state prodotte dalla fondazione MAC. Queste varietà possono rappresentare una buona opportunità in alcune situazioni molto critiche come la vicinanza ai centri abitati, alle case o le pendenze eccessive dove la meccanizzazione è difficoltosa. L'ultimo argomento affrontato riguarda la possibile interazione tra l'odore prodotto dalla cimice asiatica, insetto alieno che negli ultimi anni tanti problemi sta dando in frutticoltura. In questo caso si parla di vino dove la possibile presenza della cimice asiatica nei processi di cantina potrebbe determinare degli odori sgradevoli sui vini. Si è visto che questo elemento chimico che determina l'odore del vino è un elemento che si degrada rapidamente, che si ossida rapidamente e non determina gravi problemi nella gestione complessiva dell'attività enologica in cantina.